Le 21.18, buonasera il 19 maggio del 2017, bentrovati per questa nuova puntata di Stasera Conna. Stasera non posso assolutamente permettermi di divagare sulla trasmissione, su alcune considerazioni, perché sono tanti gli ospiti che abbiamo e do necessità, mi hanno detto alla regia, di velocizzare il tutto. Quindi do un po' la scaletta. Avremo ospite il segretario generale della CISL del Calatino, Giacomo Rogazione, parleremo della nuova sede che sta per essere ultimata, che ospiterà gli uffici della Polizia di Stato e della Polsrada a Caltagirone, in via Santa Maria di Gesù, parleremo anche dell'impegno del sindacato nell'attenzione che sta ponendo in questo passaggio epocale che ci sarà a partire dal prossimo 1 giugno, allorquando la Dasti lascerà alla nuova società che si è aggiudicata per i prossimi sette anni dal raccolto dei rifiuti all'Econord e a GESP. Questo è un momento importante perché ci deve essere il transito di tutta la forza lavorativa di questo, per cui il sindacato è particolarmente impegnato in queste ore per salvaguardare i posti di lavoro, ma pare che problemi non ce ne siano. Quindi parliamo di questo con Giacomo Rogazione. A seguire avremo, non so l'ordine quale sarà, avremo ospite Mario Polizzi e il consigliere Simone Amato del gruppo consigliare di Caltagirone per la città che vogliamo. Parleremo degli ultimi provvedimenti che il Consiglio Comunale di Caltagirone ha intrapreso, parleremo di COSAP, parleremo di garante per le persone prive della propria libertà. Quindi saranno argomenti che attengono l'attività politica e amministrativa della città di Caltagirone. Quindi ospiteremo l'assessore Francesco Caristi assieme al dirigente, al funzionario di Calat Ambiente SRL Vincenzo Cifo, proprio perché siamo alla vigilia del passaggio epocale, ho detto prima, perché dal primo giugno spariranno dalla nostra visione, dal nostro utilizzo i cassonetti per la raccolta dei rifiuti. Dal primo giugno ci sarà la raccolta porta a porta. Già questa sperimentazione è in atto in alcuni quartieri di Caltagirone, vedi Villaggio Paradiso, vedi Villaggio Semini, vedi la frazione di Granieri. Ecco, dal primo giugno tutti i 15 comuni, anzi 14, fatta eccezione di Castel di Iudi che arresteranno i cassonetti, avranno la raccolta porta a porta e quindi sarà un sistema nuovo a cui tutti siamo obbligati ad adeguarci perché altrimenti ci saranno problemi di natura penale, penale voglio dire, chi sarà sorpreso a violare i dispositivi. Questo ne parleremo fra breve con l'assessore all'ecologia, l'ingegnere Caristia del comune di Caltagirone e con Vincenzo Cifo di Calat Ambiente SRL. Poi ancora avremo il dottore Rocco Zapparrata che torna a trovarci dopo tanto tempo, vediamo che cosa ci racconterà sia dal punto di vista imprenditoriale, lui è uno dei maggiori imprenditori del Calatino e non solo naturalmente, ma ci atteniamo qui a questo nostro, ma anche un escursus politico. Oggi se Salvini, noi con Salvini riesce ad avere questa visibilità in Sicilia, in particolare nel Calatino, la presenza e il valore specifico per l'avere acquisito consensi, consiglieri comunali e quant'altro e la presenza anche del leader nazionale, Matteo Salvini, spesse volte, io ho detto ridendo scherzando, che avevo proposto al sindaco di Mineo di conferire la cittadinanza onoraria al cara di Mineo, all'onorevole Matteo Salvini, se non altro perché è molto frequentemente ospite dello stesso, l'ultima volta ci ha anche dormito. Ecco, parleremo con lui di questo, dell'aspetto politico, ma parleremo anche dell'aspetto imprenditoriale che lo stesso sta perseguendo. Poi, subito dopo questa pausa pubblicitaria, lascio a un piccolo servizio, recurato da Nenzi Seimbene, ma ritengo che sia opportuno questo spazio per presentare una nuova serie di programmi che vanno in onda il lunedì sera su TVRX. Se non ci avete visto la scorsa settimana, la prima puntata di Jake, Nenzi Seimbene intervisterà il diretto protagonista. Allora, brevissima pausa pubblicitaria, state con noi, la serata è molto lunga, tanti gli argomenti, avremo modo anche di apprendere tantissimo. A subito dopo.